Ick remava con foga e non parlava mai. La prima notte il mare si increspò. Il vento sollevava spruzzi altissimi dai quali, in tutti i modi, la bambina tentava di ripararsi. Ma sul piccolo guscio esposto alle intemperie era impossibile non bagnarsi. — Così io muoio, gridò Ick. Non ho che un foglio di carta per aggiustarmi e non basterà se mi bagno tutta. — Tu fa come scogliattolo, dispose lui. Olga credette che il trastuono del vento avesse impedito a Ick di comprendere il senso delle sue parole. Ma poi, per puro caso, il suo sguardo si posò sull'albero e allora capì che il ragazzino le aveva dato un'ottima idea. Su, in cima alla bete, a tre metri d'altezza, gli spruzzi arrivavano diradati e scarichi. Inoltre, le fronde l'avrebbero protetta dalle gocce. — Veloce come uno scogliattolo, Olga si arrampicò fino in cima e da là ringraziò Ick per il buon suggerimento. Ick le rispose di stare immobile per non sbilanciare la barca. — Questa poi è bella, mormorò la bambina incredula. Quando mai un foglietto di carta ha fatto prendere qualcosa da una parte o dall'altra? La notte passò e sul mare scuro finalmente apparve il giorno. La bambina di carta aprì definitivamente gli occhi. Non aveva dormito bene in cima all'albero. Le onde l'avevano sballottata. Lei aveva avuto freddo e si era sentita sola. Per tutto quel tempo Ick aveva remato, remato e remato, e non aveva più parlato. — Non sei stanco? gli chiese Olga sporgendosi dalla cima dell'abete. Lui non le rispose e continuò a remare. Di gran lena, a ogni colpo di remi la bambina doveva tenersi per non cadere. — Non so proprio come fai, gli disse. Chiunque sarebbe già morto e sepolto. Anche l'uomo più forte del mondo. Tu invece non ti fermi mai. — Al tuo posto io sarai a striscioline. Va bene che sono di carta, ma è ben per questo che mi sono messa in viaggio, per non essere più di carta e diventare come te. — Hai mai sentito parlare della maga Usolia? Magari l'hai portata avanti e indietro su questa barca. So che vive sul mare. Non so esattamente dove, ma lo scoprirò. E allora le chiederò di farmi la magia che mi trasformerà, e non chiedermi di che colore saranno la mia pelle e i miei capelli, e quanto sarò alta o bassa. Sarà lei a deciderlo. — Ti ho detto da dove vengo? — Mentre la barchetta saliva e scendeva sulle onde, Olga raccontò la sua vita a Ick, dal giorno in cui era venuta al mondo, sorprendendo il piccolo villaggio sulla montagna innevata. Fino all'incontro con il tasso, e poi con Melo, in viaggio in mongolfiera, le cose belle che aveva visto e quelle brutte. Ick taceva e remava. Qualche volta annuiva, altre volte scuoteva la testa per disentire. Era un tipo di pochissime parole. Per tutto il viaggio che durò sei giorni e sei notti, fu sempre Olga a parlare di questo e di quello, delle onde dell'orizzonte, dei sogni che aveva fatto tra le fronde dell'albero, e di quelli che faceva occhi aperti, degli innamorati dalle mani di pasta frolla, e delle ocche che perdono la strada, i fratelli che lei non aveva e invece avrebbe voluto, e degli amici, di quelli vecchi e di quelli nuovi, incontrati durante il viaggio. Parlo di acqua dolce e di acqua salata, di pesci e di uccelli, di doni e di difetti. Tu che dote hai? chiese una sera Ick. Non importa, lo so già, è ben nota la tua dote, la tenacia. Tu non molli mai, neanche un momento, però guarda che morirai se non ti riposi un po'. Io invece non so che dote ho. Ick alzò gli occhi al cielo in un'espressione che è «parlo troppo, è questo che pensi», gli disse Olga. «Guarda che non è una dote, ma un difetto. Però, se parlo tanto, è perché tu stai sempre zitto. Se dicessi qualcosa ogni tanto, io farei silenzio. Per esempio, perché non mi dici quanto manca ad arrivare? Comincio a essere stufa di stare appollaiata in cima a questo albero. Non sono mica un merlo!» «Domani», rispose io. «Domani», rispose io.